Ragazzi benvenuti, siamo qui con il post partire di Lazio-Valentino Sono più calmo, Lazio-Valentino a 2-1 Quanta sofferenza ragazzi Quanta sofferenza ragazzi Finisciamo con 2-1 per Lazio, vittoria importantissima Per noi ancora meno 4 ore di vento, però soffriamo ragazzi troppo Inizia con un gol stupendo di liberi la partita Che gol ha fatto ragazzi Poi il rigore di Cheseto, che forse un po' dubbio Ma il primo rigore ci stava non ha dato l'arbitro Quindi giusto che il secondo lo dà Giusto che il secondo E poi c'è stato 1 in fine di Luisa Alberto A 8 da la fine Importantissimo, che ci fa sognare Ancora meno 4 ore di Torino Per favore Con la Valentina abbiamo sofferto, perché abbiamo sofferto ieri Abbiamo giocato benissimo Abbiamo giocato bene, abbiamo sofferto E' espulso anche Vlaovic Tra l'altro Della Valentina E sì, quella così Sono contento Quindi ragazzi, se vi è piaciuto il video Lasciate un mi piace, un commento Iscrivetevi al canale Se vi è venuto a tutti i cittadini Iscrivetevi al canale E non ci vediamo in prossimo video Bye bye ragazzi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti